buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è sabato primo giugno 2024 iniziamo insieme un nuovo mese è il mese dell'estate il mese che ci introduce nella buona stagione il tempo oggi è tante quanto probabilmente prevarrà il tempo bello ma staremo a vedere allora cominciamo subito attraverso l'almanaco del giorno che si festeggia oggi eccolo è san giustino san giustino visse nel secondo secolo nacque nacque in palestina nella località di nablus oggi si chiama così un tempo si chiamava flavia neapolis si trova in san maria ed era stata una colonia romana fondata da vespasiano giustino giustino studiò filosofia e si imbarcamenò tra la cultura ebraica e quella greca e mentre si trovava ad efeso si convertì al cristianesimo scrisse opere importanti come la prima e la seconda apologia un prezioso spaccato di vita ecclesiale del suo tempo morì martire giustino per non rinunciare alla sua fede in cui tra tante teorie che aveva studiato aveva individuato la verità fu messo a morte sotto il prefetto giugno rustico regnando come imperatore marco aurelio quindi questo è giustino secondo secolo eccolo qua e allora passiamo alle previsioni del tempo ecco il mese di giugno che inizia l'insegna di condizioni meteo stabili su tutta la regione con cielo sereno in mattinata poche nubi al pomeriggio quindi una giornata estiva oserei dire le temperature 17 la minima 27 la massima sulle coste i venti spirano da est sud est dall'entroterra da sud ovest il mare è leggermente mosso il sole è sorto alle 5 e 28 e tramonterà alle 20 e 41 queste le previsioni del tempo e allora cominciamo la nostra rassegna stampa aprendo i giornali sulla pagina di fano ma contemporaneamente li apriamo anche sulla pagina del resto del carlino perché le aperture oggi sono uguali si parla di cronaca si parla di violenze ecco i due titoli le leggiamo per primo sulle corriere violenza urbana tra bande rivali sette avvisi e sei d'aspos della questura ebbene tutto quello che è avvenuto di trasgressivo recentemente a fano nell'ultimo periodo ora giunge al capolinea per i provvedimenti presi dalla questura e nelle fotografie vediamo il questore il nuovo questore della provincia di pesaro urbino francesca monte reali vediamo il titolo che ha composto il resto del carlino violenze allo sport parche in centro pugno duro piovono d'aspo urbani giro di vite del questore dopo gli episodi accaduti al pincio e non solo ma anche in piazza andrea costa vi ricordate ora scattano i provvedimenti vediamo come hanno reagito le forze dell'ordine in merito alle turbative che gruppi di giovinastri hanno così realizzato in centro urbano sia in zona mare che in centro urbano a fano aggressioni in centro storico e a sassonia emessi 13 provvedimenti nei confronti di altrettanti giovani per lo più di origini magrebine si tratta di avvisi orali sette in totale e di vieti di accesso ad aree urbane sono invece sei i cosiddetti d'aspo urbani quelli che non possono quelli che vietano di essere presenti in determinate zone sono queste le misure preventive disposte dalla questura che richiamano ulteriori attenzioni sul disagio dei giovani immigrati a fano e proprio in questi giorni ricorda il corriere adriatico l'ambito territoriale sociale ha denunciato per voce della sua coordinatrice d'ambito roberta galdenzi il rischio che il racket della droga si sia infiltrato nei flussi giovanili ovvero nei minori non accompagnati che sbarcano nel porto di ancona poi si spostano nel territorio si fermano anche a fano e appunto qui vengono utilizzati per alimentare lo spaccio della droga il che spesso alimenta delle turbative tra bande rivali che poi si abbandonano in aggressione episodi di violenza e via del gene emessi anche tre provvedimenti per episodi di stalking elite domestiche questo è un po il consuntivo che ha fatto la questura della giornata di ieri lo vediamo anche qui sul resto del carlino giro di vite del questore dopo gli episodi accaduti al pincio non solo ora scattano i provvedimenti l'obiettivo è quello di prevenire ulteriori azioni che hanno che dovrebbe che metterebbero a soquadro il cuore della città come accaduto negli ultimi tempi vi ricordate avevano aggredito un giovane tunisino allo sport park lo scorso 29 marzo e per rendere le minacce più credibili avevano tirato fuori anche un coltello gli avevano dato una testata e gli avevano spruzzato contro dello spray urticante e poi altri episodi si sono verificati in centro storico al pincio nella zona di piazza ammiani piazza andrea costas dove sono i centri dove si radunano questi ragazzi vediamo ora le altre notizie notizie di cronaca ancora sul corriere adiatico in merito ad un incidente stradale una ciclista un ciclista anzi investito resta mezz'ora sull'asfalto in attesa del 118 l'incidente è accaduto in via roma non molto lontano dalla rotatoria che insiste sull'incrocio di via roma con l'inter quartieri all'altezza di un distributore della benzina ebbene qui un ciclista è stato investito da un mezzo è caduto sull'asfalto e ha aspettato ben mezz'ora l'arrivo di un'ambulanza e il fatto della carenza dei mezzi di soccorso in una città importante come numero di abitanti come quella di Fano è uno dei problemi che è stato sollevato con più attenzione durante la presente campagna elettorale occorre che la sanità abbia più mezzi per poter soccorrere le persone che sono in stato di bisogno appunto se una pensate voi di notte di notte esiste solo un'ambulanza se questa è impegnata in un in un episodio di soccorso se ne arriva un altro questa rimane senza devono arrivare mezzi o da pesaro da caiglia addirittura da molto da molto lontano comunque questo è un problema che deve essere risolto perché i primi gli interventi di soccorso devono essere i primi a essere potenziati ad essere razionalizzati a seconda delle esigenze e poi un'altra notizia importante che pubblicano i giornali questa mattina è quella che la giunta ha approvato la messa a disposizione di una nuova area parcheggi suoniamo le campane suoniamo le sirene perché questa era una delle aspettative maggiori che nutre la popolazione parcheggi in modo particolare a sassonia in zona mare dove d'estate aumenta l'afflusso dell'auto per l'arrivo di tanti tanti turisti ma anche perché la zona mare attrae i cittadini che vengono dal centro storico dalla periferia e anche dall'entroterra ebbene l'amministrazione comunale ha preso in affitto un'area privata di 3.000 metri quadri che proporrà la disponibilità di circa 100 posti auto quindi un ruolo un numero considerevole che potrà supplire a quelli sottratti sia in Viale Dante Ligieri e quelli resi indisponibili momentaneamente in Viale Battisti dove ancora sono i lavori in corso per la qualificazione della strada a Lido continuerà ad essere l'area ex Vittoria ad ospitare i parcheggi anche qui l'amministrazione comunale ha rinnovato la presa in uso di quest'area pagando un affitto di 20.000 euro mentre l'altra area che è stata affittata in sassonia costerà 15.000 euro e nei 20.000 euro che si pagano per il Lido è compreso anche un'area di 900 metri quadri in via Capellini a Ponte Sasso e insomma c'è carenza soprattutto di aree pubbliche quindi l'amministrazione comunale per venire incontro alle effettive esigenze della popolazione è costretta a prendere in affitto dai privati le aree che sono rese disponibili e che sono libere da costruzioni adesso per quanto riguarda l'area di Sassonia che si trova in via Gentile da Fabriano è in corso il taglio dell'erba e la predisposizione dell'area ai fini di parcheggio ci vorranno alcuni giorni ma credo che alla fine della prossima di questa settimana entrante l'area sarà disponibile e poi un ritrovamento un ritrovamento in piazza Andrea Costa di carattere archeologico ha suscitato di nuovo l'attenzione della soprintendenza e degli archeologi ebbene ancora ritrovamenti in questo luogo dove si pensava ormai di avere esaurito gli scavi anche se non si è andati molto in profondità perché lì l'esigenza è quella di riqualificare la piazza e purtroppo non quella di valorizzare i reperti che sono venuti alla luce ma questi continuano a emergere ebbene nei giorni scorsi sono emersi ancora dei mosaici ed è emerso anche una pietra preziosa la vediamo qui pubblicata sul resto delle Carlino eccola qua è una corniola una corniola incisa con la figura sembra di un satiro di un satiro che regge un bastone ricurvo il pedum che era proprio tipico di questa figura mitologica il pedum viene tenuto nella mano sinistra mentre nella mano destra ha un grappolo d'uva e quindi dovrebbe essere un satiro ebro insomma quelli che si abbandonavano alle danze un po' sfrenate che caratterizzavano questa figura dell'antica Roma e ora dunque si continueranno speriamo gli scavi e sembra che lì persista una grande aula e siccome siamo nelle vicinanze del foro una grande aula che non è pertinente ad una semplice abitazione privata dovrebbe essere invece di pertinenza ad un edificio pubblico forse le terme della città che ancora oggi non sono state trovate a parte qualche bagni privati Balneum che è stato trovato nei pressi di piazza 20 settembre molto molto tempo fa allora vediamo un'altra notizia importante sul Corriere Adriatico ieri abbiamo dato notizia che l'ambulatorio di oncologia quello dei hospital sarebbe stato chiuso della giornata di sabato perché una delle dottoresse è in maternità ebbene questa disposizione che ha sollevato molte molte proteste ora è stata revocata il cartello affisso all'ingresso di oncologia dell'ospedale Santa Croce è stato rimosso e oggi il dei hospital per i pazienti neoplastici sarà regolarmente aperto per il consueto turno del sabato dalle 8 alle 14 quindi una decisione che aveva destato molte perplessità è stata revocata vediamo anche la campagna elettorale di Fano ieri c'è stato un incontro una conferenza stampa organizzata dal centro-sinistra sono stati presenti il candidato sindaco Cristian Fanesi e il candidato al consiglio comunale della lista in comune Samuele Mascarin l'argomento che ha comunato i due candidati è stato quello dei servizi educativi le scuole ebbene nel programma del centro-sinistra ci sono tre punti importanti innanzitutto l'aumento delle risorse per quanto riguarda la manutenzione degli edifici 500.000 euro all'anno saranno messi a disposizione degli interventi per bonificare gli edifici per ripararli per curare la loro manutenzione l'altra importante decisione è quella di istituire la mensa nelle scuole medie attualmente la mensa è presente nelle scuole primarie nelle scuole anche dell'infanzia ed ora mentre le scuole medie molte delle quali hanno deciso di effettuare la settimana corta con il sabato libero quindi aumentano le ore nei giorni feriali e molti poi hanno il ritorno anche pomeridiano ebbene anche qui sarà istituita la messa e poi quella realizzazione di tre nuovi asili nido che saranno pronti nel 2026 e sono gli asili nido di Bellocchi di Cucurano e del Vallato in zona di Via della Colonna che verranno incontro alle esigenze soprattutto delle giovani coppie le quali non saranno più messe in lista d'attesa per la sistemazione dei loro bambini le giovani coppie i cui genitori lavorano entrambi e non sanno veramente dove porre i loro bambini non hanno un aiuto parentale e quindi queste istituzioni diventano fondamentali per assicurare un futuro a queste famiglie ecco dunque gli impegni del centro-sinistra in merito alle scuole oggi inizia un nuovo festival a Fano anzi diciamo meglio non è un nuovo festival inizia una nuova edizione di un festival che ha raggiunto la sesta edizione si tratta sulle note della fortuna un'iniziativa che premia i cori delle scuole è un'iniziativa a livello nazionale che ha attratto l'attenzione di tante scuole in tutte le regioni d'Italia ebbene oggi sono quattro i cori selezionati che parteciperanno alle esibizioni finali oggi pomeriggio sono previste le prove all'interno del Teatro della Fortuna poi mano a mano che i cori si sono esibiti passeranno al gonfalone dove ci sarà un intrattenimento musicale organizzato da un gruppo di cantautori come Davide Grilli, Enzo Vecchiarelli e Susanna Pusineri che metteranno in scena lo spettacolo Rodari e le filastrocche canterine e poi domani, domani è la giornata finale all'interno del Teatro della Fortuna riservato ai ragazzi e ai loro accompagnatori mentre tutti i genitori potranno assistere allo spettacolo al Politeama di fronte ad un maxischermo che riprenderà tutto quanto accadrà al Teatro della Fortuna quattro cori in gara e ci sarà anche ovviamente un coro di Fano ed è il coro della Scuola Primaria Gentile del Porto Passiamo ora nell'entroterra e vediamo che a terre roveresche si passa alle vie di fatto contro il biodigestore ebbene è un'iniziativa legale contro la deroga che ha così concesso la provincia a Feronia per realizzare questo maxi impianto il comitato di Barchi reagisce contro appunto questa dilazione di tempi che la provincia ha concesso all'azienda proroga per il biodigestore parte un esposto alla procura e poi vediamo che a Monteporzio esiste un rischio frane particolarmente importante un rischio che da tenere costantemente sotto controllo per quanto riguarda le piene del fiume e di due fossi il comune si è dotato del piano di protezione civile per le calamità e quindi un modo per poter innanzitutto prevenire e poi da intervenire in caso di emergenza passiamo a Senigallia Senigallia la pagina oggi ci propone un episodio di cronaca un ubriaco si è messo in testa di competere con una auto dove c'erano dei giovani che tornavano tranquilli da una serata passata in discoteca con una corsa folle in mezzo alle strade ebbene all'inizio per provocarli gli ha spinti contro il margine della strada e quindi gli ha indotti a fuggire e quindi una rincorsa loro fuggono lui li rincorre a maxi velocità uno va più forte l'altro va più forte ancora i giovani spaventati con il telefonino chiamano la polizia la quale alla fine ha fermato questo uomo domiciliato a Fanoma residente in Emilia Romagna ubriaco il quale voleva sfidare questi giovani in una folle gara come lui stesso poi ha riferito per lui era semplicemente un gioco ma un gioco molto molto pericoloso e pensate che oltre a essere ubriaco non aveva nemmeno la patente ed era addirittura recidivo per comportamenti di guida senza appunto il documento che lo abilitava raduno Harley stop all'alcol per evitare problemi il sindaco Olivetti ha emanato un divieto di somministrare bevande sopra i 5 gradi e poi non si possono utilizzare latine e il vetro in centro e anche sul lungomare quindi stop all'alcol in occasione di questo grande raduno degli appassionati di motocicletta veniamo ora alla pagina di Pesaro dove Viale Trieste si fa il look in previsione dell'estate Viale Trieste c'è l'isola pedonale ma ci sono anche aiuole sicure e il tunnel alberato guardate qui i pedoni passano non solo camminano in una zona a loro riservata e quindi al di fuori del pericolo del traffico ma addirittura anche all'ombra quindi veramente è stato fatto un intervento di arredo particolarmente importante oggi scatta l'isola pedonale di Viale Trieste arredo pronto siamo sicuri che vi piacerà hanno detto appunto i realizzatori di questa opera e poi guarda un po' che cosa accade all'ospedale San Salvatore di Pesaro ci sono addirittura i topi in camera operatoria topi all'ospedale scatta l'intervento condotta sanificata in sala operatoria ebbene è accaduto chissà come sono entrati fatto sta comunque che l'operazione è stata così gestita con destrezza e con tempestività in azione sono entrati subito degli specialisti nessun ratto per fortuna dentro i reparti dove ci sono i degenti sarebbe stato veramente una cosa tutto può accadere perché poi i topi si insinuano dappertutto nelle condotte nei cunicoli insomma dappertutto però questa volta si è intervenuti con tempestività teniamo ancora la pagina la grande frode fiscale che dalla Sicilia è venuta su dal sud Italia verso Pesaro faceva base ad una agenzia interinale sono stati arrestate due persone che hanno messo in scena un giro di truffe alimentato dalla creazione di reti di impresa al centro di questa inchiesta c'è un raffinato sistema fiscale con una regia unica che faceva base su Catania in Sicilia quest'ultima abusava dei vantaggi normativi in tema di distacco di personale previsti per i contratti delle imprese insomma il personale che va da una all'altra azienda quest'ultima poi usufruisce degli incentivi perché così è il contributo che dà l'Unione Europea e anche lo Stato italiano siamo in conclusione voglio ancora segnalarvi invece una notizia che viene pubblicata dal resto del Carlino di cui abbiamo parlato un po' di tutte le altre cose ma voglio farvi vedere anche la continuazione del festival del Brodetto che si sta svolgendo al Lido di Fano il Brodetto continua a suon di sapori e musica dal Brodetto alla musica due eventi importanti chiuderanno la giornata odierna si conoscerà oggi il vincitore della gara nazionale dei brodetti delle zuppe di pesce e si potrà assistere al concerto pop jazz di Simona Molinari una delle più importanti cantautrici italiane contemporanee quindi una bella serata oggi è bel tempo la concludiamo con il festival del Brodetto e questa era l'ultima notizia Asimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento lunedì prossimo sempre alle 7 con una nuova rassegna stampa grazie per l'ascolto e a risentirci a